Aspetta Chees Guardate Carbone Guardate Carbone Guardate Fuchsia Guardate Bianco Guardate iPhone Grazie Aiutateci perché vuole spostare velocemente i trampolini Grazie Non dimenticate che ci saremo al Fitness Festival del Tour Ottobre 10 Decino Metro con Cadoro Parco delle Valle Il secondo weekend in Roma Mi raccomando ragazzi Fitness Festival del Tour Potete fare una lezione E potete trovare l'informazione qui con noi Grazie a tutti Ciao Buongiorno Qui invece di chiudi Quanti sono? Questo Un Sono due Tre Quattro Cinque Aspetta che te li stanno portando via Cristina Ragazzi Guardate 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 Guardate